Dal 14 al 16 dicembre nel Centro Storico Nisseno si svolgerà la manifestazione denominata Turruni, la festa del Torrone di Caltanissetta. Si tratta di una tre giorni all'insegna di appuntamenti gastronomici e culturali per celebrare il più tradizionale dei dolci natalizi, ovvero il Torrone. La conferenza stampa di presentazione dell'evento si terrà giovedì 13 dicembre alle 10.30 a Palazzo del Carmine. Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre si celebreranno tutte le espressioni italiane del dolce natalizio e sarà possibile acquistare e degustare torroni siciliani, calabresi, lombardi, irpini e tanti dolci, tra musiche, animazioni, degustazioni e tanto altro. Inoltre il 15 dicembre alle 17.30 presso l'Aula Consigliare del Comune si svolgerà un insolito processo al Torrone in cui esperti della gastronomia e personaggi illustri interpreteranno il ruolo di giudici, testimoni e avvocati per discutere le origini del celebre dolce, per capire in sostanza se il Torrone è nato a Cremona o a Caltanissetta. E poi ancora domenica 16 alle 11 a Palazzo Moncada si darà spazio alla cultura e allo sport con l'attesa consegna dei premi Torrone d'Oro che quest'anno verranno assegnati a due illustri nisseni, il giornalista Tiglio Bolzoni e il campione di sollevamento pesi Mirko Scarantino. Sempre domenica alle 16 verrà presentata al pubblico una golosa maxiscultura interamente realizzata in Torrone, lunga circa 6 metri e raffigurante l'Italia.